Bene ragazzi, iniziamo. Come prima cosa, aprite questo sito internet che vi darò e scegliete il file che volete far diventare un file OGG, in modo tale da poterlo poi inserire. In questo caso scelgo il Fave Psycho, poi convertite e dopo lo scaricate nella cartella che volete. Dopo di questo andate sulla barra start e scrivete percentuale, appdata, percentuale, aprite roaming, minecraft, assets, virtual, legacy e la prima cartella sound. In questo caso voglio cambiare il rumore del piston. Vedete che ci sono due in e out. Andiamo dove abbiamo salvato il file Psyclo, il rominiamo in, poi lo copiamo. Cancelliamo il file in E incolliamo il nostro file in Facciamo questa cosa con l'altra cartella Ok, dopodiché apriamo minecraft Da questo momento quando a un pistone verrà tolto la redstone La musica che si sentirà sarà quella appunto di Psycho Grazie di aver visto questo video e alla prossima, ciao a tutti!